Ragusa, la polizia è tratto in arresto in quarantena per il sfruttamento della prostituzione, l'uomo aveva coinvolto una donna con problemi psichici. Base nato, oggi ha comiso giornata celebrativa per ricordare la battaglia contro l'installazione di missili americani, tante le iniziative in programma, Futura e Libertà, Enzo Pelliglia si dimette da segretario provinciale, le divergenze con la segretaria regionale alla base della scelta. Vittorio ha presentato questa mattina la rappresentazione del dramma sacro, legiste per il secondo anno, sarà Massimo Legge. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. Apertura di questa edizione come avete sentito dai titoli, dedicata alla cronaca. A Ragusa un uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'uomo di 40 anni aveva coinvolto una donna che di professione faceva la badante e che soffriva di problemi psichici, ma sentiamo in questo servizio i particolari della vicenda. Arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione un uomo di 40 anni, la sezione volante della polizia di Ragusa, è riuscita ad individuare l'uomo grazie alla testimonianza di una donna di circa 35 anni che ha denunciato con coraggio l'accaduto. La vittima, di professione badante e con problemi psichici, aveva accettato la proposta del quarantenne di fare sesso a pagamento. Da lì si è sviluppata la vicenda. L'uomo aveva inserito sui siti online specifici degli annunci per procacciare i clienti alla donna. Un'attività curata nei minimi particolari del quarantenne che addirittura preparava dei bidettini con tutte le indicazioni necessarie al cliente per incontrare la vittima. Gli appuntamenti venivano infatti dati in abitazioni diversi, un escamotaggio che permetteva all'uomo e alla donna di non destare il sospetto nel vicinato. La donna ha trovato il coraggio di denunciare i fatti dopo essere stata picchiata dall'uomo che non aveva accettato la proposta di ridurre dal 50 al 30% la percentuale che il quarantenne teneva per sé. La vicenda andava avanti da circa tre settimane. Questa mattina in conferenza stampa il dirigente della sezione volante di Ragusa, Antonio Giavola, ha ribadito l'importanza del coraggio mostrato dalla donna che ha permesso di far emergere la vicenda. Per l'uomo è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora. Un reato sicuramente di una rilevanza importante perché parliamo del favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione ma noi sottolineiamo il fatto che siamo riusciti a conquistare la fiducia di questa donna e lei ha rotto il silenzio denunciando appunto i fatti di cui era succube e chiaramente subiva nel dover fornire queste prestazioni sessuali a pagamento dove chiaramente doveva dare parte del compenso addirittura la metà a quest'uomo appunto che l'aveva aiutata in tutti i modi diciamo nel prostituirsi. Reato ripeto che distrugge diciamo una donna o in generale appunto chi si prostituisce e per noi è importante sottolineare questo e che chi ha bisogno della polizia di Stato, la polizia di Stato c'è e comunque è sempre presente ogni volta che viene chiamato il 113, le volanti arrivano e prestano l'assistenza dovuta. Gli uomini del commissariato di polizia di Vittoria hanno tratto in arresto un tunisino di 46 anni per resistenza pubblico ufficiale. Sentiamo. Arrestato dagli agenti del commissariato di Vittoria Mohamed Nasher Genish, tunisino 46enne per resistenza pubblico ufficiale. L'uomo da anni residente in Italia in regola con il permesso di soggiorno aveva tentato di trafugare mercanzia di scarso valore dagli scaffali di un supermercato cittadino ma i dispositivi antitaccheggio lo avevano scoperto. Era stata chiamata una volante della polizia di intervenire sul posto e nel corso della perquisizione gli uomini del commissariato hanno trovato gli oggetti rubati, creme per capelli e dentifrici. Gli agenti avevano così deciso di accompagnare Genish in commissariato per redigere gli atti necessari per denunciarlo in Stato di Libertà all'autorità giudiziaria. All'improvviso le intemperanze. L'uomo ha iniziato a colpire a testate, calci e pugni gli agenti che lo invitavano a salire a bordo della volante. Un agente è rimasto ferito durante lo scontro con l'uomo e gli sono stati diagnosticati quattro giorni di prognosi per una contusione all'addome provocata da un violento calcio del tunisino. Immediati provvedimenti per l'energumero che è stato tratto in arresto per il reato di resistenza pubblico ufficiale è condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente e il pubblico ministero Serena Menicucci. L'arresto di Genish si inserisce nell'attività di prevenzione messa a punto dagli uomini del commissariato su direttive del questore Filippo Barboso. E continuiamo ancora con la cronaca a Ragusa. Sei extracomunitari sono stati denunciati dall'ufficio immigrazione della Questura perché hanno presentato documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno. Sentiamo. Segnalati dal personale dell'ufficio immigrazione della Questura di Ragusa sei cittadini stranieri, tre tunisini e tre algerini perché ritenuti responsabili di uso di atto falso. Cinque di loro infatti nel presentare la documentazione per la richiesta di permesso di soggiorno hanno allegato le copie di modello CUD che da un'analisi approfondita sono risultati falsi. Il CUD lo ricordiamo è necessario per dimostrare un reddito sufficiente che è requisito essenziale per l'ottenimento del titolo di soggiorno. Il confronto dei documenti presentati con i dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe tributaria ha infatti permesso di appurare che i modelli erano stati falsificati ad arte. Il sesso dei denunciati un cittadino algerino ha invece esibito, sempre per ottenere il permesso di soggiorno, un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo con la quale il Tribunale gli aveva concesso la riabilitazione in relazione ai suoi precedenti penali. Nel leggere l'ordinanza tuttavia il dispositivo di accoglimento della richiesta di riabilitazione risultava del tutto in contraddizione con la premessa fatta dal giudice. Per questo motivo gli agenti hanno richiesto al Tribunale palermitano copia conforme all'originale del documento da cui si è riscontrato che il giudice non aveva accolto bensì rigettato l'istanza di riabilitazione. Ai sei cittadini extracomunitari denunciati sarà notificato il procedimento amministrativo teso al rigetto della richiesta del titolo di soggiorno. E proseguono i controlli negli istituti scolastici sotto la giurisdizione dei carabinieri della compagnia di Vittoria. I militari della stazione di Comiso hanno denunciato sei genitori per inosservanza dell'obbligo di frequenza scolastica. Denunciati dai carabinieri della stazione di Comiso altri sei genitori per inosservanza dell'obbligo di frequenza scolastica. Dopo il deferimento è stato di libertà di 24 coniugi nel corso del 2012 da parte dei carabinieri della stazione di Vittoria per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione scolastica. A seguito di ulteriori indagini quest'oggi sono stati i carabinieri della stazione di Comiso a denunciare stato di libertà sempre per lo stesso reato che è previsto e punito dall'articolo 731 del codice penale altri sei genitori. Questi ultimi sono esercenti la patria potestà nei confronti di due ragazzi italiani di 16 e 13 anni nonché di un ragazzo rumeno di 9 anni. Tutti iscritti a tre diversi istituti di Comiso ed è stato accertato che senza un giustificato motivo i minori sono risultati assenti dalle elezioni dall'inizio dell'anno scolastico 2011-2012. I genitori adesso dovranno rispondere di inosservanza dell'obbligo di frequenza scolastica. Proseguiranno i controlli negli uffici scolastici di Vittoria, Comiso, Acate e Chiara Montegulfi che sono sotto la giurisdizione della compagnia. Una discarica di rifiuti pericolosi e non solo è stata sequestrata di Ispica. La procura della Repubblica di Modica ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Sandra Levanti in un'area che si trova lungo la strada Ispica Santa Maria del Fogallo di proprietà di un Ispicesi di 60 anni indagato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa. Sul terreno erano ammassate infatti decine di autovetture fuori uso, ciclomotori, parti di veicoli usati, pneumatici, materiale da costruzione contenente amianto e altri rifiuti. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.